Benvenuti gentili ci spettatori, eccoci qua a TG Ocean, oggi abbiamo molte notizie sulle quali parlare, ma come primo argomento incomincieremo a dire che Jumpy è gay. Ok basta, non sappiamo più cosa dire, I'm so sorry, I'm so fucking sorry, Jumpetech, buongiorno ragazzi, non sto più facendo niente, Jumpy basta, taglia, taglia Jumpy di merda, benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Minecraft, come vedete, come sentite sto aprendo mille ceste, Minecraft, Ho tipo l'effetto che cambia colore e si vede tutto storpiato, bellissimo, lo lascio così, come vedete Minecraft si sta evolvendo, Minecraft si sta evolvendo, e quindi? Perché c'è solo un pezzo di grano, non capisco Manco io Ancora questo è sfocato, che cazzo No, sono ritornato a Minecraft normale, non mi piace Questi effetti di Jumpy stanno sfottendo Bravo, allora, questo tipo con l'antiani è sfottendo Perfetto, è partito ragazzi, è riuscito a perdere Questo non mi piace Io mi sto, io metto tutto al minimo, fa un culo, Minecraft non deve diottare così, basta, metto tutto al minimo What the fuck? Prestazioni 10 FPS Oh, ho messo lo schermo al contrario, vediamo se riesco a muovermi Oddio, non mi riesco Oddio Cristo, ho messo tutto al minimo, e sto laggando tutto al minimo, non ci posso credere, Jumpy sta laggando tutto al minimo What the fuck? Impossibile Io ho messo lo schermo al contrario, non capisco niente, ho paurissimo Bella merda Esatto, non sto dove andando Ok, basta No, voglio l'effetto quello figo Forse questo, oh questo, questo effetto è fantastico, ora che io lascerò sempre questo, sti cazzi Ma è perché ho messo 10 FPS forse, per vedere se ne è momento Ah, ecco perché Ok Ah, ok, adesso va meglio No, che questo effetto mi flash un pochetto troppo Ok, adesso è ingravido le vacche Cioè nel senso che do a mangiare, nonché io mi metto a... coparmi le vacche Oh no 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 no, le vacche Un Minecraft in bianco e nero, oh no no No, Jumpy, aiutami, sono qua con le vacche che mi stanno scorreggiando addosso Ok, posso, sono rimasso In quel modo io devo troverò un Minecraft normale Cioè, forse non è chiaro la cosa Ok, l'ho trovato, però non lo voglio Io stavo dal Nether, non per rollarmarti, eh Ok, ok Eh, what the fuck era, le vacche là, le vacche là, le vacche là, le vacche là c'è tipo il c'è cosa c'è parla bene il field of view, lì come cazzo si chiama il fov allora musica suoni, ma che cosa vuole un principale venti mamma mia guarda 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 si ha visto in musica suoni che c'è un bordello mamma mia che cazzo fa mojang di merda minecraft era un gioco per bambini ma adesso è diventato un gioco per adulti perfetto guarda cambiato tanto è cambiato il nether che cazzo è? aspetta Roy non avanzare è cambiato il nether? ok no mi sta il cervello mi sta trullando bravo sto andando nella stronghold arriviamo nella stronghold sto andando aspetta frena perché poi ci perdiamo di nuovo Cristo Gesù no adesso è la stessa stronghold mica aspetta quale stronghold quella che hai trovato prima o questa? la solita ah ok ok questa quale scusa ne abbiamo trovato solo una e io ne ho trovato un'alternativa che non ho voluto visitare ma mi hai detto mi viene intorno a cosa veloce tipo una caglia di camera è spenta e ho girato mezzo nether è più figo o minecraft è così cazzo con questa grazia? aspetta opzioni non vedo un cazzo da lontano opzioni ah c'è una palla di merda c'è una palla di merda sei sceso sotto? dove sei andato? solo nella stronghold e dove? la solita inutile stronghold di sempre porca puttana che punta nei corridoi principali pensa te nei primi corridoi che ci sono no ok cosa mi ha droppato? dimmi che mi ha droppato una testa devo ancora vedere ma forse mi ha droppato qualcosa di bello vediamo oh povero no niente testa oh quanti blades mannaggia la morte prima dei blades non ce ne facciamo una merda dove sei? è la stronghold vorrei picchiare se ne ho arrivo mi vedi? si testa ciao qua c'è un descaletto che è pieno tu insomma non mi ha droppato la testa che merda questa missione ragazzi sarà missione impossibile for the win and win and win esatto andiamo a cercare un'altra stronghold insieme? si e se ti ritrovi se ti ricordi dove è quella magari no non mi ricordo è distantissima ottimo ottimo magari tracciamo in qualche modo strano sti cazzo prendiamo questa niente ci sono solo blaze quindi andiamo via ottimo cambiamo da questa cosa c'è? non trovi un cazzo non trovi un cazzo ehi lava ehm what the f**k lol andiamo a giù? ehm giù ehm 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 andiamoci bah ehm 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 ah molto bene sicuramente la saga piazzane ovunque e non ne ho mi sono solo una spada a vedere la cazzo guarda quando ho tentato un buco 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 ha rotto il cazzo non so che spara a bestia roi quando che la smetti non ce la farei mai porco 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 come ti fai a rimanare indietro con l'effetto lo devi evitare tipo dove cazzo sta? lui è già lasciato, lui è partito mi sono cagato in mano quando mi ho preso allora vedi da questa parte questa fai come un po 2 kills 1k, mangiala no, ok scusa secondo me per andare a di pre quel coso è arte si perchè è catafratto catafratto non te trovo oh manchia zambadack mi ha rotto ciao ti ha trovato cos'è questo cubo? oh dio era un mob, guardate che cazzo di cubo era era un magma cube è un cubo ma... che cazzo fai coglione? mi sono salvato, no per culo, peggio ah per pisello ah che simpatico roi ah proprio proprio simpatico mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia ti stanno sparando i sette già si ho notato, tranquillo non mi sto morendo ucciderò un gas da terra non servirò mai a prenderla da sei? ciao roi eh sto arrivando forse andiamo da questa vieni non bazzarmi mentre siamo s... dai gas dai gas chi lo possa avere ho detto non andarla coi gas che ti sparga se ti sparga una palla addosso cadi giù no non problema mamma mia questi niente terreni esplorabili sono troppi grandi troppi grandi porco mi ha preso il piede lui eh mo ha colpito il terreno troppo forte perchè mi ha fatto schizzare in alto sto coso la palla è tipo mi ha fatto schizzare in alto ahah 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 no comunque roi seriamente dobbiamo abolire l'idea nether per adesso dobbiamo aspettare che si ripopola un pochetto perchè no si ripopola cosa di gadi di cosa merda lì cioè io tipo ho mandato devo appena ci c'è 3 eh punto ma dopo una settimana cagliare ma che cazzo stai dicendo non lo so vedi che muoio vedi che muoio porco che non sono morto per pochissimo come cazzo ritorno io da adesso ad esempio spiegamelo eh ti teleporti mi esco a enter nether no ho trovato la strada ho trovato la way ho trovato la way ho trovato la way ho trovato la way così alla random mi crea un'altra spada sto creando spada all'infinito continuo a morire cioè che cazzo basta questo è l'ultimo che creo ehhh ahhh dove sono i materiali terracei qui crea un piccone in cobblestone ho avuto quasi i panassi che mi ero fatto cristo ottimo sti cazzo donne sto cadendo qua ho paura quando cantichi senza comunicare con me cosa hai da cantichiare senza comunicare con me ehm cosa cantichiare che è non so io non so che non sono solo anche quando sono solo faccio capire le mucche dove è il coso le mucche perchè lui le chiama mucche le mucche le mucche ottimo oddio forse trovato la nostra stronghold forse trovato un altro stronghold ho trovato un blitz sicuro quello sicuro ottimo c'era la nostra o non c'era la nostra c'era la zombie che sta notando oh mio dio uno zombie che nuota è uno zombie in notatore lo chiamavano bad pen come si fa a fare fare sesso alle cose con il grano e io lo sto spammando addosso ma non se lo prendono come si fa a fare forse a fare cose non se lo prendono che cazzo che cazzo come si fa a fare sesso alle cose ma è cosa qualcosa no eh porco gesuito non ce la farò mai dire quelle cose merda oddio un altro blaze coso no un altro wither coso mmm ah ce la mi droppa la testa boom no aspetta ci devo riprovare sti cazzi ragazzi un attimino oddio oddio ho trovato due cose belle quello 360 e con cose belle intendo due pezzi di carbone bello wow proprio c'è una grazie grazie wither non ce l'ho fatta ok questo ho trovato due ossa grazie wither scato e qui non possono far sesso perchè sono troppo grandi c'è un recinto troppo piccolo no ma guarda si si guarda che non devo fare uno schifo sti stronzi madonna mai mai spile da bottano il recinto voglio vedere se c'è della legna perchè voglio allargare qualcuno lo fermi ragazzi qualcuno lo fermi perchè hai messo questo cosa nell'estintore madre di mia cazzo di merda il mio estintore è un ehm come si chiamano quei cose dove pisciano i cani WTF è un iderante no vabbè quello che cazzi è quello che viene sta arrivando ok io sto andando da allargare la cuccia alle pecore lì alle mucche LA CUCCIA è una cuccia perchè le pecore hanno che cazzo è sto ghast la stalla può che cazzo è quel ghast porco 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 merda me ne sono trovato fuori dalla nostra casa indistruttibile privata anti son mossa ottimo ehm se ne avete le trasporti OHHHHH FUCKING C Jug stabii st' крайους todo con un ghast del mondo normale ma tu non fa entrare il ghast nel mondo normale che muore tutto oh cristo cristo è arrivato è arrivato il ghast nel mondo ihan decreasing mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia tranquillo non stai morendo tanto vai esce dalla montagna tanto vai esce dalla montagna aiuto aiuto qua dietro merda 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 hai entrato un ghast per caso sci 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 stai fai history della montagna cosa stai dicendo 掛ì chazzo aiuto 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 sto entrando io mamma mia 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 mìa lì attento idiota si crede anche lì proprio un persona stupida a girati per adesso mi chicca sicuro zialo e del chiccazzo e uscire dalla porta no apripto ma il tema Lui distruzze la montagna Che merda No 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 Deve entrare mucca Ah si sono morte Ma me le ho shattate E vede sono nuovi fiori zampi tipo questo Lo minecraft nuovo che mi sta troppo in culo Altro che balle No mi ha scappata la mucca Porco 2 ributtala qua dentro Scoppiato? No sta piovendo che cazzo Ha scoppiato su e ha fatto un buco terribile nella mappa Per fortuna si è salvato la ferroia E ha anche tirato un cristione Ho fatto un papavero Secondo me ha tirato il creeper in papavero Aspetta, io devo fare entrare la mucca Ho messo il papavero Ah ma sono cambiati i fiorellini rossi Cambiate le loro Le loro cose Che schifo Dai non fanno l'amore A far l'amore è incominciato A far l'amore è incominciato Che mucca di merda Ma sei stupido Ti ho detto di non allargare le lezite Non ce lo meritano queste cose Vigliacche bastarde Bravo Sono stronze Ah sono zampitec Ma tu Ma anche io Cos'era pure un bambino? No perché lei ha ghillato? What the fuck? Tanto ne abbiamo due Oh No Ah Ah Grazie per avermi fatto salire Tvtb Vieni Così fa una pecora nella piramide Ma che cazzo è? Lo so vuole fare l'egiziana Ambole 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 Oh Oh Ehi Pecora immortale Ma non ci sei io Oh pinta la madonna No non farmi incazzare Ma ti coso in faccia Ma tipo che facesti così? Eh esatto fai così Fatto Bravo zampitec Sei proprio un hacker Ma il peggio hacker XD XD111 Mi sento Gesù Io dico bassa pioggia Smette di piovere Aspetta ti ho detto Che non dobbiamo andare Cos'è questo invito? Non dobbiamo andare a Del netter Però cosa che facciamo? Scusa allora Potremmo migliorare la piramide Ci serve una pelle di mucca Bene Qual è il problema? Mucca? Dove siete? Non ne abbiamo Ci sarà un casino Di pelle di vaccazza Ottimo Quindi Andiamo a uccidere le mucche Quanto ne abbiamo? Sì più che altro Per migliorare la piramide Dobbiamo fare le librerie Infatti È quello che mi ricorda Eh allora ti serve Pelle di mucca Ne ne abbiamo Quanta? C'è te io ne ho Ah ma un casino Per far una libreria Quanto ce ne vuole? Eh non mi ricordo Quanta Quanta Qua Ti serviva Per far una libreria Se non so io però Fa Ti fa La La tavola da lavoro Ti fa Una sola libreria Non mi ricordo In casa ho tre libri Vado a provare a fare un libro adesso Non mi ricordo un cazzo A far l'amore incomincia a Pietro A far l'amore incomincia a Pietro Porco Pietro Intanto io in questi giorni Sarò a Luca Comix Ragazzi Se volete Origentorare Sono allo stand Lo Cualermaster Sotto da mura Per qualsiasi info Mamma mia Eh se vi interessa Domani Cioè ci sarò Oggi è venerdì Ci sarò Pino domani sera Poi domani Con una pellassa Ci fa un libro Già Mopitech Dammi Ferrignia E stai zitto Legna Arrivo Tieni qua Tieni qua Perché l'amoreci E' un po' Una volta Non ti potete Osporta Zittamente Mi avresti insultato Mi sono generato di questo sicuro Quindi... Ti riuscitarò Ah, mi è dato proprio giusto Non mi è dato proprio giusto Non mi è dato proprio giusto Non mi è dato proprio giusto O nacchia No There Is You Non sa Mi sa che mi sono esplosa la via del cervello Sento fuori sciroatoria liquido dal naso Che cazzo significa? Sto prendendo sangutina dal naso Ma non è vero Invece si? E' proprio così, vieni, vieni Ti sono dietro, tranquillo Che schifo Esatto, brutta roba Dove sei? Allora, per prima cosa abbiamo Possiamo anche iniziare a distruggere la La cosa Perché non distruggere la cosa? La piramide, allora dobbiamo fare così La cosa è qua, quindi questo qua Non fare ciò che stai facendo Ok, lo sto facendo Lo sai che non si fa, vero? Cosa stai facendo? Dobbiamo migliorare la piramide E perché la stai distruggendo? Perché è stata storta e per quello anche la stai migliorando Ma non dobbiamo migliorare così tanto Invece si Così lo dobbiamo dare in lettera, stai zitto Vieni, sali con me Allora, vediamo di far questo così A posto, a posto, a posto 4, 4, 4 Ok, a posto, allora Eeeh, qua dobbiamo stringere Quindi si fa così Tu spacca il materiale in eccesso, jumpy A far l'amore incomincia a Pietro Eeeh, Cristo, quello sbagliato Li va a rompere perché è un fail Ehi, quel uomo Lui è un failer Fallo su... Cosa, scusa? Mi stai offendendo in qualche lingua strana? Che scomodo è giocare senza rotellina a sto gioco, madonna Sbrochi dopo un po' Primi i tasti I numeretti I primi i tasti comunque Basta suonare No, tranquillo, non lo sai suonante No, tranquillo, i telefoni di merda Quali telefoni di merda sono sempre, sempre le cosiddette Guarda che sono il peggio piramido Eeeh E' un esistiano ormai E' uno schiavo esistiano Tranquillo, non mi dare Non mi dare la sanston No Anzi, mi la sarco ne ho detto tutto io perché sono forte Givamela Che dove ho tu pari Ma tifo Ti me la tengo Perfetto Ma che cosa fai? Fermo, fermo, coglione Guardo, c'è da costruire qualcosa allontanato e jumpy perché Esatto, perché io lo spasco, non costruisco Cioè, che cazzo Eeeh, Gesù Cristo No, perché devi romper tutto? Sta fermo, jumpy, sei un danno Sei un danno Sei un danno Esatto Dove devi venire qua però That's Sergent and Fuse Non direi sempre, diventi una persona monotona da scottini di sapere stesse cose Direi sempre me ne ricorderò Esatto Me ne ricorderò che mi ha detto questa cosa, vaffanculo Io dico quello che voglio, hai capito? Hai capito, stupido, m***a Però vediamo qua Però l'abbiamo stretta Ma va, you don't say You don't tie You don't... Oh, your light, auguri Però abbiamo fatto anche la spiaggetta attorno Borgici Proppo tamarri Tamarri Oh Dobbiamo anche allargare la strada, zampi No, 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 perché? Puoi prendere, vai a prendere Stone normale Stone? Ce l'ho, ce l'ho Allora mettila qua, da questa parte Cazzo Tipo Non da quella Mettila là Ponte, allarcare il ponte Bravo Ancora? Eh, fino alla... Se no, non basta Adesso si serve la sabbia e dovremmo avere cose finita Eh, sabbia, però un problema perché mi sa che non abbiamo più Ma se dobbiamo andarla prendere sott'acqua Cazzo Provai ad aspettare, non mi ricordo Oh, stiamo a vedere, fa 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 vedere, materiali craftati, no, materiali terra, vegetali, no, materiali terraci, no, materiali terraci, no, non c'è sabbia Però c'è in caso, vabbè, prendiamo un po' di lasso allora Eccolo qua E andiamo a prenderla la merda L'ho già preso io uno, non so se c'è ancora altro No, non ce n'ho L'ho arrivato a prenderla io Ma la Sandstone se la metto nel crafting Quanto ne serve, contami quanto me ne serve, quanto, quanto ne serve Aspetta un attimo Veloce, conto che sto morendo Ehm, uno, due, tre, quattro, cinque, sei Madonna, me ne ho anche uno Muoio su attacco per questo, non ci scommetti Però, ne servirebbero altri perché dobbiamo fare una roba del genere Aspetta, ma ti faccio vedere Beh, te ne lo sai intanto io Dobbiamo allargare anche attorno alla piramide, così lo facciamo uguale all'altra parte Quoto, quoto Infatti ho fatto così, un po' GG Bravo, Zampi, bravo Andiamo facciamo al ponte Intanto, vabbè, tu fai il ponte che sto mettendo la cobblestone qua sotto Buono Mi ricorda i primi tempi su questa serie dove... Oh, e basta Mi serve da quattro cobblestone Per fare un lavoro pulito, non voglio mischiare materiali a bestie Bravo, Zampi Ti va a prendere l'altra sabbia quando puoi Ti metto l'altra Cobblestone, cobblestone, cobblestone Intanto io mi sa... Hai intanto cosa fa dentro? Sono travaccato sulla sedia non consapevole che forse il microfono mi sente male No, vedremo Tu ti sento bene Tu, il tuo microfono è nella mia bocca Aspetta un attimo Eh... Oh, cosa stai dicendo? Zietà! Tu mi senti dal microfono delle cuffie, non dal Samsung Che merda! Ok, il microfono sta recando Ti voglio anche sentire dal LED Quando registro la Samsung per capire se sta registrando gli soffio sopra e lui mi fa il LED rosso Ohhhh Proprio tecnologia evoca, mi dicono soffiare e tu scopri Oddio Ma che cosa c'è che fai con soffi? Scopi? Però fa, cambia materiale, mettiamola tipo... Buono Mettiamola così, aspetta No, no No, 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 no overtime jump, 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 jump Ma che cazzo c'entra la st... quella qui... Eh, la stone? Cosa cazzo c'entra? Fato zitto un attimo Ma la stone, pietra, sabbia Tu a mare le trovi le pietre Non è che trovi Però è più bella quella Quindi è stato zitto Si, vuoto Porco, rovio Buono, perfetto Molto bene, molto, molto bene Molto bene Poi mettiamo un'altra libreria Porca puttana E la pina viene completata Se puoi fare un'altra libreria falla Oppure quante ne puoi fare la fai No, non posso fare un'altra libreria Ma come trovi la piracomp Dai, è figa, che cazzo Cioè, è troppo bella Bisogna mettere adesso quattro torce Io ne ho 16 Quindi faccio così, guarda No, che cazzo Pfff, that fail Facciamo con una cosa, tipo Cosa fai? Il fialetto illuminato No, questa no, ok Fego Bellissimo La pina di notte Scopriamo poi Poi di all'illumina di notte Aspetta, that piramide Ah, le messe, what the fuck Visto un brutto mio e parce la notte Bravo, mamma mia, feggio notte Figa, bravo Adesso è molto bella Altri libreria, poi la shimmy It's very fucking cool Quante librerie facciamo ancora, per esempio Fare, falle tutte quante ne puoi fare Ok, falle Allora ne servono tante di più Vado a vedere se c'è Ma quante ne posso fare E quante ne vanno fatte La cosa è differente No, quante ne puoi fare Ma pochissime E falle tutte Vediamo come possiamo riuscire Ne faccio tipo Una Una What? Sì Per fare il libro quanto pelle servono Vaffanculo Quanto pelle Quanta pelle Una pelle serve per fare un libro E allora non avevi sette tipo prima E ne ho già fatte tre libri Ah, perché per fare una libreria ci vogliono tre libri Sì Sì Merda È quota Merda Brava, avrei proprio tutto Con infassibilità No, proprio con la voce nasiale Merda Eh, ma sono raffreddata Sei raffreddata Sì, sì La carne salata Comunque Ok La carne salata Cosa carne salata Alla prendere sabbia Non mettere strane idee in testa della moza Che fanno le saline dopo Da fare Da raccogliere le sale su minecraft Mi serve sicuramente una palla Per prendere La sabbia Ho il grano Vacche Te le butto giù Te le butto giù Te le butto giù Te le butto giù Blablabla Blablabla Guarda Precisione Quanti cubi servono Nessati conto i cubi Ok Allora Uno Porco 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 Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undeci Dove Tredici Quattore Quindici Siete Siete Dicenove Venti Ventuno Due Venti Tre Venti Quattro Dicenque Sette Venti 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 Ne ha scegliato Beh Mincevo Una piramide Una Torcia Perfetto Arrivano proprio i messaggi Perché non mi risponde Giambodac Quanti servevano? Servevano? Eh 19 No 29 Ok Quanti dai? Di 12 No Jumptec No 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 Vuole salvare la vita Ma se ti ho pezzo una torcia sott'acqua la vita non mi tira a fulla Funziona ancora quella specie di bug No Non sarà più Sono morto l'altro giorno Sono morto l'altro giorno Non sento questa cosa Ottimo Vero Che cosa è vero? No Mi sono causato addosso Basta Invitarmi Solo cara Candy Crush Basta Non voglio Tu Devi anche ieri che si grazie Ho scoperto che roga Facebook Oh sono cresciute le mucche veni a dargli del grano No cosa ho premuto? Ho t'ho premuto troppi tasti In zed Oh che cosa ho fatto? 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 Stavo morendo What the fuck Che schifo molto più bello così molto più bello, molto buono molto bene, molto bene, così più bello bello, 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 bello jumpy, quanto sabbia ti manca? ne ho 7, ne avevo messi già 19 no, te ne mancano molti 1, 2 3, 3 più 14 fa 17, te ne mancano quindi 10 te ne mancano te ne hai 17 mi serve un piccone mi serve un piccone cazzo, qui manca la stone per favore, è pregato a non imitarmi ok, chiedo bene perché non ne sarebbe capace, zitto ma che cazzo è che metto la lana random? vedi che sei scarsa è vero, è vero, non so, c'è vero mamma mia, che schifo bellissima sta laga in Switch vendiamo le magliette di Minecraft credevo le magliette di Royale ce le vero finite sì, però non sono sicuro dai, metti la sciabbia e basta ovviamente ne mancano 5 2, 3, 4, 6 ce la farò mai non ce la farò mai sto morendo sto morendo Roy morirò no ti avrei fatto morire io però lo stavo failando ha qualcosa di diamante lui ha qualcosa di diamante no ma il piccone di diamante ma il piccone, ah ecco l'hai recuperato what the fuck what the fuck what the fuck what the fuck c'è giù roba che ti serve vuoi a vedere? non la prende, tranquillo guarda, non ti scomodare eh, non ci sa più l'inventario ah, eh, porco hopla hopla c'è due piccone uuuuh, abbiamo finito, perfetto, abbiamo finito allora metto un po' di torce aspetta, no metto un po' di torce ok metto un po' di torce ok, ho sperato tutto un'angolo qua, un'angolo qua, un'angolo qua un'angolo qua, un'angolo qua mi chiamo quanto scendeva luce adesso le bollicine dei stacquo del calcio troppo troppo, odio la moia oddio, che spavento mi son preso l'ho scritto sia, mi sembrava un ghastown cominciando a scappare come una merda che schifo guarda che bella la piramide io non so un cazzo dovremmo mettere una dovremmo fare una figata tipo che quando entri nella piramide oh guarda, cosa ho fatto? ho recitato le bocca, ma troppo bello mettiamo dei not block no, no, no ho fatto la cazzata, ho fatto la cazzata sta ferma, bucca, sta ferma, bucca dove 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 perché non gli fai fare sesso? perché uno è P ah no copate bacca, va, bacca cazzo, sono caduto non è una cosa positiva scopate, tre non è perché l'altra gera è stata ingravidata apporto no, no, non sono zeroso delle bacche allora 9 dopo andiamo a mettere un materiale qua ma che brutto cioè, le madri o i padri fanno sesso con i figli ma c'è stare cose brutte esatto mamma mia, che tristezza come dire ho 9 pezzi di pelle quindi posso fare 9 libri dovremmo fare una stalla aspetta posso fare 9 libri aspettaci dopo lo facciamo con calma ma perchè ti aggiungi achievement che mi fai proprio nervoscire dopo ti l'avete di oh troppi achievement da fare ce lo faremo mai perchè stai stupido dove stai andando? ah no 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 rincorrermi non rincorrermi non va bene rincorrermi non so ma ti voglio prendere dove sono? noi non abbiamo una piantagone di canne da zucchero scusa si no non l'abbiamo ma l'avevamo una volta o sbaglio non ho idea what? e sopra che cazzo è scusa? ah sopra porco infatti sopra abbiamo ma non ci sono più va a prendermi i canne da zucchero va a prendermi le roba da piantare lui le ha tolte tutte che ci servono cristo esatto what the fuck what the fuck yo nigga io nigga dove era materiali vegetali si eh c'è ci sono le fennine no vero tipo la sassi iscrive sono sceso dal tetto che cos'è? what the fuck aspetta? vai a piantare attenti tanto mentre faccio altri libri Wow mica vorrò più zia Non me la fa piantare Niga Yo niga Che fighe le cannella zuccher Già è cresciuta una Perché alcune non me la fa piantare Perché un esempio Non è che c'è la torcia Non è cresciuta una Perché tipo l'ho messa e subito cresciuta Voglio prendermi Romp anche l'anguria così facciamo cibo Guarda Mi serve Legna zampi Eh non spaccare gli alberi Mi serve legna Ti spacca qualcuno di decente Ti spacco il culo se non mi porti la legna subito Ti spacco il culo se non mi porti la legna subito No ho parlato così solo te Perché posso parlare in modo così deficiente Neanche così Ti butto giù gli alberi se mi fa incazzare Attaccati a sto ceppo Attaccati a sto ceppo ancora che merda Il red horse Attaccati a sto ceppo Piantali però Attaccati al ceppo Se vuoi il temberello li piantalo No Lo sai che non lo faccio mai Devi farlo Dobbiamo tenere un video L'ossigeno in oceano Perché senza alberi l'ossigeno non ce n'è Ma io respiro sotto l'acqua Via le branche Ok Li pianterò io Io voglio una foresta Omezzonica su oceano La vediamo Cadono alberi dal cielo Quanto hai fatto? Tre librerie Andiamo a metterle le librerie all'interno della Guarda sono diventato proprio questo sistema numerico per l'inventario Hai rotto il cazzo Hai rotto il cazzo Vogliamo sia chiaro che Hai rotto il cazzo Ti devi nascondere Devi sparire Non farti più vedere Wow che figata Poi le mettiamo una qui sopra Ed è anche più figo Tipo adesso voglio incantare la spada Vabbè vabbè incantata Contracolpo 1 Più 6 di attacco danno Che cosa? È un danno Sei un danno No non ho fatto le diamanti Non tu worry Non un malo Gio Ciao Sì 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 Grazie a tutti.